Il secondo libro del De Monarchia di Dante Alighieri, come già si è mostrato, ha per oggetto la dissertazione sulla questione se l'impero romano si sia imposto di diritto sul mondo o meno. La domanda è sostanzialmente questa. Avevano i romani con il loro impero il diritto di imporsi sul mondo o è stato un sopruso. Il primo capitolo si apre con una constatazione di Dante. V'è stato un tempo in cui egli si maravigliava del fatto che il popolo romano fosse diventato padrone del mondo e ne ravvisava il motivo ultimo nella potenza delle armi. Successivamente, scrutando più attentamente la questione, analizzandola più approfonditamente, Dante comprese che tutto ciò era invece un disegno della divina provvidenza. Sicché alla maraviglia subentrò la derisione per lo sforzo vano delle nazioni che cercarono di lottare e di opporsi contro il dominio di Roma. Dopo la derisione, però, in un uomo impegnato deve nascere la luce della correzione. Per questo Dante scriverà e proverà a diradare le nebbie che offuscano gli occhi dei re e dei principi. La soluzione del problema è chiarita non soltanto alla luce dell'umana ragione, ma anche alla luce della grazia divina. Così si apre il primo capitolo del secondo libro del De Monarchia. Perché le genti furono in fermento, i popoli concepirono vani disegni? Insorsero i re della terra, i principi congiurarono contro il Signore e contro il suo Cristo. Speziamo le loro catene e gettiamo lontano da noi il loro gioco. Come non arrivando a cogliere il manifestarsi di una causa, noi ci stupiamo generalmente di un effetto inatteso? Allo stesso modo, una volta conosciuta la causa, guardiamo con un sorriso di superiorità quelli che rimangono nella loro meraviglia. Io in realtà mi stupivo una volta che il popolo romano fosse venuto alla signoria del mondo senza incontrare resistenza, allorché, guardando solo alla superficie, credevo che l'avesse ottenuta non in forza di un diritto, ma solo con la forza soverchiante delle armi. Ma quando ebbi ficcato a fondo gli occhi della ragione e mi fui reso conto per segni decisivi che questo aveva operato la provvidenza divina, col venir meno della maraviglia subentrò un senso di beffardo disprezzo a sapere che le genti avevano avuto moti di ribellione contro la superiorità del popolo romano, vedere popoli intenti avani pensieri come solevo fare un tempo io stesso e per di più vedere con dolore re e principi d'accordo solo in questo, avversare il loro signore e il suo unto, il principe sovrano. Perciò con un moto di derisione, ma non senza un sentimento doloroso, posso gridare a difesa del popolo glorioso e di Cesare come lui che gridava per il principe del cielo. Perché le genti furono in fermento e i popoli concepirono vari disegni, insorsero i re della terra e i principi congiurarono contro il signore e contro il suo Cristo. Ma il vincolo dell'amor naturale non permette che la derisione duri a lungo, e come il sole d'estate, dispersa le nebbie del mattino, irradia al suo sorgere tutta la propria luce, così lasciato da parte il riso preferisce ora versare la luce di un ammonimento emendatore. Perciò io a spezzare le catene dell'ignoranza di re e di principi simili e rendere il genere umano libero dal loro gioco, esorterò me stesso come il santo profeta, facendo mie le parole successive a quelle, spezziamo le loro catene e gettiamo lontano da noi il loro gioco. E questo mi riuscirà in modo soddisfacente se verrò a capo della seconda parte del tema presente e darò la giusta soluzione del problema che ora si affaccia. Perché attraverso la dimostrazione della legittimità dell'impero romano, non soltanto si disperderà la nebbia dell'ignoranza dagli occhi di re e principi che sono essi gli usurpatori del timone dello Stato, e controverità pensano che questo si possa dire del popolo romano, ma tutti i mortali si riconosceranno liberi dal gioco di simili usurpatori. La risposta vera al problema può essere ovvia non solo al lume della ragione umana, ma anche al raggio dell'autorità divina. E quando queste due testimonianze vengono a incontrarsi è quanto dire che insieme concordano il cielo e la terra. Quindi sorretto dalla certezza che ho detto, forte della testimonianza della ragione di quell'autorità, mi accingo a risolvere la seconda questione. Ecco quindi che Dante ha introdotto il secondo libro e la seconda questione che lo caratterizza, cioè quella legata alla dimostrazione della legittimità dell'impero romano, come Dante stesso apertamente la chiama. La legittimazione dell'impero romano, ossia appunto quella che Dante stesso dice, quod romanum imperium de jure fuisse mostrabitur. Ecco, si mostrerà che l'impero romano è stato di diritto, è stato legittimo. Questo è l'obiettivo del secondo libro e Dante dice che in origine pensava che ciò dipendesse solo dalle armi, poi si accorse che in realtà vi era un disegno della provvidenza divina ed è su questo che ora procederà a ragionare.